Ragazzi eccoci qui su un video di Crash Royale E oggi facciamo una partita Mettete un sacco di mi piace E spero che il video vi piacerà E bella visione E che devo dire una battaglia Aspettate il mio Dio di farlo però Andiamo Toggio a 7 cento E una sette Uuuuh subito qua questo Al sette toni Ragazzi molto forti Sto stagionando io Che ragazzi Sono migliorato Dall'altro ieri L'altro ieri Sarò migliorato Quindi spero che il video vi piaccia Quindi io Mettete molto Mi piace Settanta o sessanta Partita adesso Ci ha fatto un po' di danno Mettiamo il cascaiolo Poi Ehm C'è un bel nuovo Due colpi Due colpi Due colpi Due colpi buono Due colpi buono Raga buono È buono Vi ho detto che sono migliorato L'altro ieri Quindi ragazzi Mettete mettete le tiglie Mettete le tiglie Poi se vuoi Mettete le tiglie Io non parlerò Sì Ragazzi Sì Le tiglie Sì Sì usate la mia nuova prima di ora è fatta è ancora il 5 ragazzi Se facciamo lì un'altra torre, la centrale con tre moschetti all'ultima vita che ne temono pochissima Ragazzi, oggi 60 mi piace Ragazzi, 60 mi piace Dai, se mi riesce a parlare di gennaio dopo Oh, può uscire Lì, vado a uscire Non sta giocando a Leonardo Ci sta pure io, raga Non sta giocando a Leonardo qui, raga Che fai? Dai Ti senti Stetica Costantinopoli Francesco, fai le cose a casa Allora, andatelo a rubare Pure, come si chiama, Namastele, come si chiama l'attore Come si chiama, Francesco Gabbani Francesco Gabbani dice che mi dovete mettere mi piace, cento mila Ascoltatelo Ascoltatelo Anche Maradona A Maradona L'ho contattato L'ho contattato Anche qui l'ho contattato Ok, quindi dicono Mettetemi non mi piace Mettetemi non mi piace La mia stessa Quindi Mettetemi non mi piace E che ha detto Quelli in Maradona Che hanno detto? Mettetemi mi piace A Francesco Ascoltatelo Anche se Il più dentro Sono brasiliani Io sono brasiliani Perché la mia mamma è l'istrata Gli ho detto che io in generale sono brasiliani Quindi non dovevo andare a parlare brasiliano E mi sono parlato Sono africani? E' finora brasiliani Sempre parlare in inglese Ma i brasiliani non parlano Sì Ma proprio la lingua brasiliana Vabbè ragazzi Abbiamo fatto una guerra Allora pure noi siamo brasiliani Perché parliamo in inglese Sì Ma pure no A me è bellissimo Sotto Come pensate? Bananana Bananina Bananina Scappa Bananina Scappa Noi Siamo siamo in questa Ragazzi Allora Sponsorizzi un po' E' bella a tutti i ragazzi Eccoci qui Iscrivetevi a questo canale Pure questo E' pure un'altra Buona No Tutti i pezzi C'è l'agenda Aspettate Francesco si è arrabbiato Non sai com'è Come Lo sai come si ricavano gli scritti Tu non sai neanche come si ricava Vedete un video di What the hell Francesco stavo vedendo un'altra cosa Eh sì E la vedo Ecco qui Iscrivetevi a Anna Rita Scarpa Sì sì E' un ottimo canale Scherzi A francesco Allora Ecco la linea Ecco qui Umi Giasha Scusate ragazzi Ogni Come lo vanno da mia nonna? Vieni Se non muove Allora mettiamoci un attimo di qua, un spettatore, bella, anche io mi piace, che significa un come si fa a vedere lo spettatore? Come si fa a vedere lo spettatore? Come si fa a vedere lo spettatore, 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 come si fa a vedere ragazzi andiamo a vedere lo spettatore, come si fa a vedere lo spettatore, come si fa a vedere ragazzi andiamo a vedere lo spettatore, come si fa a vedere lo spettatore, come si fa a vedere lo spettatore, il Qua ne tengo uno, io amo tutti uno e due. Ma lo sai come fare i scritti? Se vuoi tenere in caccia ciò è un biglottino. Eh, dieci. Più di dieci. Quindici. Però ti devi mettere l'altro. Di più, fammeli fare. Fa niente. Poi dicevo, metti più. Chi? No, non ce la puoi vedere, stoppalo. Come si stoppa? Stoppa il video. Uno, spettatore. Spettatore, ti puoi iscrivere al canale di Francesco Costantino? Iscriviti pure al mio canale, si chiama Leonardo Guida. 137 iscritti ho fatto un contest dove si vince un account di Clash Royale. con la principessa strevane di Giaccio e fuori legge. E lui non lo sa. Dagge. Due spettatore. Giaccio. Oh, ti ha lasciato a mi piace? Beh, perché io non la chiudiamo. Ti amo, non fa niente, non la chiudiamo. Vedete cosa si guarda Francesco? Ti amo. Ok. Come si fa? Come si fa? Come si fa? Oh, no, no. No. Ok. Chiudi. No, che cazzo? Ya. Chiudimelo. No, no, chiudi.